Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a sequestro nella periferia nord di Caevano un'area presso la quale sono stati scoperti due mezzi pesanti che trasportavano 21.500 litri di gasolio di contrabbando. In particolare i finanziari del gruppo di fratta maggiore nel corso del costante pattugliamento del territorio hanno individuato un'autocisterna che percorrendo una strada sterrata faceva ingresso in un'area privata. L'anomalia ha indotto le fiamme gialle ad eseguire un controllo al termine del quale sono stati scoperti due soggetti entrambi napoletani mentre travasavano gasolio tra due autobotti senza essere in possesso di documentazione fiscale di accompagnamento che ne attestasse la provenienza. Le successive analisi eseguite sul prodotto energetico hanno disvelato il mancato rispetto dei parametri chimici tipici del diesel frutto quindi di una miscelazione non autorizzata la cui combustione sarebbe stata per di più dannosa sia per la trazione degli autoveicoli che per l'ambiente. Il controllo è stato poi esteso al piazzale di circa 5.000 metri quadri dove sono stati rinvenuti anche numerosi rottami ferrosi e scarti di lavorazione riconducibili ad un'auto officina in piena attività sconosciuta al fisco. Denunciati quattro responsabili per contrabbando di gasolio e reati ambientali.